Siamo ormai arrivati ad aprile e l'agenzia delle entrate non ha ancora fatto chiarezza su alcuni temi che interessano chi compra e vende criptovalute. Fra questi sicuramente il più importante è quello legato allo scambio di una cripto con una stablecoin. Ma come mai l'agenzia delle entrate non vuole fare chiarezza su tutto ciò? Cosa possiamo fare noi allo stato attuale per interpretare correttamente la normativa e come possiamo essere sicuri di essere compliance? In questo video cerchiamo di fare insieme un'analisi di questi punti ma dopo ovviamente ognuno dovrà prendere le sue decisioni col suo commercialista. Ok ora andiamo a capire quando uno scambio è fiscalmente rilevante per l'agenzia delle entrate. Se noi andiamo a leggere la circolare di ottobre vedete qui loro ci dicono In sostanza lo scambio tra criptoattività aventi medesima funzionalità economica come lo stato del paragrafo 1 non sono fiscalmente rilevanti in quanto si considerano aventi uguali caratteristiche e funzioni. Questo cosa vuol dire che se voi scambiate bitcoin con ethereum per loro sono due cripto che hanno uguali caratteristiche e funzioni. Se voi scambiate un bitcoin per un NFT non sono due cose che hanno le stesse caratteristiche e funzioni per cui in questo caso sarebbe un evento fiscalmente rilevante. Infatti subito qui sotto ci fanno l'esempio con ether e bitcoin. Subito sotto poi c'è la parte del stablecoin per cui con riferimento alla permuta tra criptovalute e stablecoin è necessaria una distinzione. Seguendo l'approccio definito dal regolamento MICA in base al quale le stablecoin possono essere distinte in e money token un tipo di criptoattività che mira mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale oppure asset reference token un tipo di criptoattività che non è un token di moneta elettronica e che mira mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione di due compresa una o più valuta ufficiale. Qui dopo loro subito sotto ci dicono che ovviamente gli money token possono essere considerati moneta elettronica come definite nell'articolo 2.2 della redirettiva al 2009 che i possessori di moneta elettronica sono sempre titolari di un credito nei confronti dell'emittente della moneta elettronica e hanno il diritto contrattuale di ottenere in qualsiasi momento e al valore nominale il rimborso del valore monetario della moneta elettronica detenuta per cui voi in qualsiasi momento dovreste poter ottenere il rimborso della vostra valuta elettronica con euro invece subito sotto vediamo per gli asset reference token il rimborso avviene per un importo in fondi diversi dalla moneta elettronica equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token collegato all'attività detenuto o consegnando l'attività a cui è collegato il token poi subito qui sotto lo specificano ancora meglio pertanto in linea con il descritto quadro normativo si ritiene che la permuta tra una criptovaluta e un money token che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto a una valuta fiat è fiscalmente rilevante invece per quanto riguarda gli asset reference token non soddisfando questa condizione non è fiscalmente rilevante e allora a questo punto noi ci chiediamo quali sono gli money token ok andiamo a vedere cosa dice il MICA a riguardo gli money token se andiamo a prendere questo riassunto questa è la propria parte dove ci parla dei token di moneta elettronica per cui gli money token qui vedete ci sono i requisiti perché un token venga considerato token di moneta elettronica per cui cosa deve avere un token per essere considerato il money token? il primo essere autorizzati in qualità di ente creditizio o di moneta elettronica e al momento non c'è nessuna stable coin che è autorizzata da un ente creditizio qua in Europa non ce n'è uno per cui già a questo punto diciamo nessuna stable coin è un money token se andiamo a leggere i successivi vediamo che ci dicono pubblicare un whitepaper sulle criptatività su qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabile dei danni per le informazioni errate contenute nel whitepaper essere conformi alle norme di emissione rimborsalità e marketing emettere i token al valore nominale al ricevimento dei fondi rimborsare sul richiesto del possessore i token in qualsiasi momento al valore nominale e anche questo sicuramente non è un requisito che viene soddisfatto dalle stable coin investire i fondi che ricevono in attività sicure a basso rischio nella stessa valuta e depositarli in un conto separato in un ente creditizio questo punto sicuramente è una cosa da verificare però non specificano quali sono le attività sicure a basso rischio per finire stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adiempire i loro obblighi ok per cui dopo aver letto questo possiamo dire che non ci sono attualmente degli e-money token questo al momento anche perché quando questa parte della direttiva del mica entrerà in vigore il 30 giugno magari le cose saranno cambiate però al momento diciamo che è la situazione così per cui in linea teorica possiamo dire che gli scambi avvenuti fra crypto e stable coin l'anno scorso in teoria non dovrebbero essere attività fiscalmente rilevanti e invece per le operazioni che stiamo facendo quest'anno la cosa invece potrebbe complicarsi leggermente per le operazioni che noi stiamo facendo quest'anno perché se è vero che in questo momento le stable coin non sono degli e-money token può essere che nel corso dell'anno lo diventino a quel punto lì la cosa potrebbe essere complicata la cosa diventerebbe complicata perché avresti un anno dove la stessa stable coin è considerata e-money token e non questo andrebbe a complicare il tutto ok a questo punto cosa dovremmo fare? allora parto precisando che non sono un commercialista è che questa mia idea è basata sulle dichiarazioni di Gianluca Massini Rosati fondatore di Alcor SPA e anche da altri contenuti e articoli letti nel web quindi a mio parere non penso che l'agenzia delle entrate per quest'anno e il prossimo verrà a fare le pulci su queste casistiche qua sebbene loro intenzionalmente stiano lasciando un allone di mistero su questa casistica qua e questo intenzionalmente lo dimostra il fatto che diverse persone, diversi commercialisti hanno chiesto all'agenzia delle entrate tramite degli interpelli ma quindi cosa dobbiamo fare quando c'è uno scambio fra crypto e stable coin? la risposta è stata tutto quello che vi serve è scritto sulla circolare del 27 ottobre per cui loro non si vogliono esporre e dire sì per noi è così, per noi è cos'ha da una parte anche giustamente perché essendo il MICA una legge europea e l'agenzia delle entrate non essendo un organo preposto a scrivere delle leggi giustamente non è compito loro decidere cosa è un e-money token e cosa non lo è però sicuramente potevano dare delle precisazioni a questo punto direi che non essendoci un token che è un e-money token in teoria dovremmo essere tranquilli però il fatto che l'agenzia delle entrate vuole tenere questo loro mistero mi fa anche pensare che magari così a caso possano sfruttare questa zona grigia per magari fare degli accertamenti a certe persone sinceramente da cittadino mi fa pensare come enti che dovrebbero lavorare per noi invece lavorano contro di noi in questo caso l'agenzia delle entrate dovrebbe aiutarci a capire come pagare le tasse e non rendercelo più complicato però siamo in Italia è normale aspettarci dei comportamenti simili per cui anche se in teoria dovremmo essere a posto a livello di identificazione degli e-money token in quanto al momento non ci sono degli e-money token non si sa mai cosa passi per la testa dello stato italiano e dell'agenzia delle entrate per cui probabilmente qualcuno vorrà essere sicuro di questo oppure magari scegliere una soluzione alternativa che non comporti il rischio di finire in questa zona grigia per essere sicuri di non finire in questa zona grigia sicuramente vi sarete informati riguardo alla stablecoin DAI oppure PAX Gold o altre stablecoin simili per cui stablecoin che non sono collegate a una sola moneta fiat ma collegate a altri assets oppure più assets oppure più monete fiat insieme in questo caso non fanno parte di e-money token per cui fanno parte di asset reference token per cui facendo uno scambio fra una crypto come bitcoin a PAX Gold DAI o altre stablecoin algoritmiche oppure con un sottostante in altri assets sicuramente questi casi non sono attività fiscalmente rilevanti ok visto che ormai siamo vicini al periodo tasse e quant'altro sicuramente nei prossimi video farò la recensione di una o più piattaforme che servono per la dichiarazione delle nostre crypto l'anno scorso avevo visto Binance e Coinly quest'anno vediamo ho già in mente una o due per cui sicuramente ci farò dei video a riguardo ok per questo video è tutto e come sempre se avete delle domande o volete esprimere la vostra opinione scrivetemi pure nei commenti e io vi risponderò ciao ciao